Alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino si è svolto in laboratorio per bambini il libro dei piccoli ornitologi in occasione della mostra a General Synopsis of Birds promossa dal Consiglio regionale. Su questo tema seguono tre conferenze a ingresso libero dell'esperto ornitologo Claudio Pulcher. Il 18 febbraio su dinosauri volanti, meraviglie di canti, forme e colori. Il 25 dalla foresta al museo e il 4 marzo tra bird watching e ornitologia. Il piacere della scoperta.